La signora Rita prende questa carta e voi la mischiate così e poi dite signora Rita, lei cosa portava qui? Lei ha preso il 10 di coppe e lo teniamo qui, ora prendiamone un'altra signora Rita, ne prenda una, una. Mi fa sentire veramente stupida. No, questa l'ha presa prima, un'altra deve prenderne lei, non deve prendere sempre il 10, lei prenda il 6 di bastoni, lo prenda il 6. Lo faccio vedere là la camera, bene, questo è il 6, no, questa l'ha presa prima il 10, deve prenderne un altro. Beh, fategli un applauso alla nostra sorellina, un bacione, bravo, è un sorriso francescano. Un altro più semplice, glielo faccio ma con amore da francescano, si mischiano le carte così e si dice Signora Rita, lei è un personaggio, glielo ho detto subito, lei è conosciuta, tra poco ci parlerà della vita, della giustizia, però lei le guarda e ne pensa una, l'ha pensata una carta, lei è libera di pensare qualsiasi carta, non so, ne dica una di carta. Il 7 di oro, la signora Rita ha pensato cosa ha detto il 7? Il 7 di denari. Il 7 di denari, lei nell'orecchio però teneva un'altra carta che è il 7 di oro, quello che pensa la giustizia lo sappiamo noi. Bene, chiudiamo, chiudiamo, chiudiamo con la presentazione a un francescano doc, un francescano doc dicendo Signora, lei la tocca e la pensa, una sola. Un'altra ancora. Ecco, deve tenere le carte, il mago non sa nulla, però la signorina qui presenta ordina, dica mischiare. Ecco, lei mischia. Ecco, poi chiudiamo il gioco così. La signora Borsellino sta pensando una carta. Cioè, lei non sa cosa pensa, neanch'io. Lo sa solo lei, i magistrati lo sanno, benissimo. Lei guarda bene, sono qui, comunque le teniamo qui. Lei ricorda la sua carta? Ora, quella di prima. Io non so cosa pensa, si fa così, uno e due. E si dice, signora, lei deve pronunciare una carta, la dica, cosa pensa? Tre d'oro. Tre d'oro. Scusate, qui c'è proprio il tre d'oro. Ha pensato. L'applauso, no signor. Grazie. Buon proseguimento. Grazie per il servizio che fa a tutti noi. La pace.